ciao a tutti e bentornati sul canale oggi proveremo rail route la canzone fantastica la musica o mio dio è bellissima ci sta questo piano in questa mattina sì perché sto registrando di mattina quindi ho un po la voce nasale da appena sveglio ma andiamo a vedere le opzioni allora opzioni audio si prospetta un gioco rilassante naturalmente l'audio dov'è no la musica qua eccola qua musica abbassiamo un po controlli ok tasti del mouse va bene varia spaziatrice accessibilità signori ci proviamo secondo me non c'è però ci proviamo e infatti non c'è l'italiano voi lo vedete io no ok lo lasceremo in inglese a blinking o ci sono i colori stazioni timeline color ok va bene tutto com'è v-sync non ci dovrebbe essere bisogno non ci dovrebbe essere bisogno si vede che mi sono appena svegliato e andiamo subito al play oh hello you must be my replacement i'm josek i've been the dispatcher here for over 30 years now and i'll be training you today it's good to meet you this is the dispatch interface oh don't worry we're not very busy at the moment we've got plenty of time to practice why don't we try moving around our view a bit to start quindi sostituiamo questo tizio hold the mouse button to move the screen or if you prefer you can use the arrow keys c'è un problema però è veramente forte ok now try the mouse wheel donna mi è fortissimo sodizio hold the mouse wheel to zoom in and out haha you're a natural i can tell you're going to be great at this already now how about we get a bit more comfortable with the interface there are a few different things that we need to learn about first up we have the switches these allow us to direct the trains route and decide which track they'll follow try clicking the highlighted switch great now we'll move on to the signals these signals instruct the train to either proceed or halt depending on which way they're flipped wonderful notice that the signal has turned green this means that it's set to proceed trains will be able to run through it let's right click it to send it back to stop again ah let's right 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 job as a dispatcher you'll be responsible for routing eh 10.000 dollars so we should get familiar with some of the routes you'll be using let's start by making a route from davidza platform to to bug me platform to noo ma perché i donni strani so that the train can safely pass them remember if a switch isn't set correctly you'll be given a pen bubni ma perché bubni ma perché bubni non si possono cambiare so that the train can travel safely from davidza platform capito stai zitto un attimo fammelo far aspetta ah se non lo fai subito continua a parlare ma tolla mia setting another route in a second but first we need to close the current route flip the signal to alt this will make the track available for other trains again normally a train would automatically reset the signal when it passes by but for now we can do it manually let's right click it to send it back to stop great job looks like you know what you're doing let's see if you can create a route on your own try making a route from bubni platform two to docks platform one and remember switches first then signals da dove devo andare da bubni a docks okay wonderful let's clear this route and get started with some actual trains let's right click it to send it back to stop again great job well you've certainly got the hang of that the trains will start coming soon i'm off to get a coffee and then we'll start for real uh i love a good coffee warms the bones i get cold often in my old age oh what's that sounds like we've got a train no one of the stations is that means there's a train waiting to arrive we better wave them through sit left click off looks like train commuter 10 11 is waiting to arrive take a look at our central path right here it comes sometimes these trains take so long to arrive i take a nap whilst i wait for them well feel free to pass the time anyway you like no you sitting here doing nothing bubni to device quindi deve andare da bubni e poi a device a device come ci va scusa fa device bubni bubni device good work now we've got to signal to the train era già aperto that'll let the train know that it's safe to set off once it's past the signal will go back to causing trains to halt we'll just wait for the train to depart now it shouldn't be long hmm hmm e quindi vabbè 5x a chi era parte sto treno ah leo ok 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 come il trenino si è non è legato come è male come sempre ok il trenino veramente suffic mio sì pe année poi c'è Ah, da Bubni 2, che sono i binari, al Bubni 1, ok, Bubni 1, ma dove sarà a mano questo? Sì, ma stai zitto, ok, ok, grazie, ok, 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 Wow, that really suits you, huh, reminds me of myself when I was younger, ok, basta che non parla più perché veramente è forte la sua voce, va bene, mi piace la cosa, l'audio così, però, dove non c'è ambiente master, è forte la sua voce, ok, ce l'abbiamo fatta? E quindi questo che deve fare, avanti e indietro adesso, a vita? Well, I think it's time to see how well I've taught you, I'm going to let you try dispatching four trains on your own now, and you've got to make sure that they're all on time, don't worry, I'm sure you'll be great, check the timetable to see the incoming trains. Ah, contratto. Ah, questo lo cosa? Found out the incoming train time, be ready to dispatch incoming train. A tempo pieno, ah, devo cliccare qua, no? 8 e 15, questo, eh, da Bob a Bobni, eh, binario 2, linea aperta, contratto, 102, eh, capito? Uh. Eh. Eh. posso mettere i segnali change track speed si ma dove è? alle 8 e 15 questo qua e dove sta? ah devo aspettare ora questo qui è il com 1621 poi arriva qua questo cos'è? che è fr? bubni 40 km ah bubni lo faccia arrivare veloce ok è arrivato ok ah devo attivare sempre il call che poi sicuramente dopo sarà automatico no deve arrivare sull'1 però perchè? che mi sono dimenticato? stop pausa devo farlo prima e ho sbagliato ho sbagliato fa 3 ore nel 2 ma c'è già ah perchè non posso fare questo ah così questo farà farà il viaggio ai docks molto più veloce fermare il menu di construzione perfetto ora puoi usare questa ruta per il prossimo treno spero che finirà di parlare scendi questo qua è solo l'andata no? si buon lavoro io conosco che eri un natural questo è il primo che è finito ora andiamo al resto ok io giuro signori non so come stoppare questo tizio che parla 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 ui forse la ui no alert no music ambient e sarebbe boh no non voglio cambiare la risoluzione vabbè ce lo dobbiamo sopportare signori dobbiamo sopportare il tipo che parla 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 ah un nuovo treno sta arrivando chi chi è che arriva adesso? FR2021 il problema è che devo aspettare questa cosa qua non l'ho capita dispacci 234 chi arriva? come 1031 devo sempre cliccare devo accettare dov'è che va? a burni? ah perché ah ok devi stare zitto però ah devi stare zitto ah zitto ok ahahahah cioè vi giuro allora Toh guarda qua senti qua music volume per la prima volta lo mettiamo si voglio cambiare la risoluzione ma perché ho cambiato la risoluzione se ho fatto l'audio va bene alert forse è lui ah non voglio cambiare la risoluzione vabbè resume ah almeno non sentiamo lui questo qua deve tornare all'1 eh ci canto eh otteniamo otteniamo 21.900 euro che brutta cosa allora sondaggione dollari euro lire la parola più brutta è euro se ci fate caso è bruttissimo cioè dollaro non c'entra niente non è americano che dice ah è la moneta hanno chiamato la moneta dollaro e si sente e ha una fonetica molto più bella di euro è brutto e in inglese euro è bruttissimo e quindi non sai mai se è euro 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 poi ha detto euro euri si può dire ma non si potrebbe dire è brutto hanno scelto un nome brutto diciamo potevano scegliere un altro nome tipo Purubullo Purubullo ci sarebbe stato meglio guarda vabbè manda le ciance aspettiamo il prossimo questo tutto questo era per aspettare il prossimo treno che arriva da Davice sul binario 2 e lo dobbiamo mandare a dox quindi ta ta dox tac oh questo è grande due tre quattro cinque vagoni cioè trasportando agende ma si possono fare gli incidenti? cioè fino a quando arrivano così no cioè o no se continuano ad arrivare queste è solo andate questo è il classico giochino che ti metti qui in relax non sai che fare ti metti qua ti ascolti la musichetta il rumore bianco del treno che fa frutto 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 dopo mangiato con la panza piena oppure quando fuori piove questo dove deve andare bunni e di vice 1 cioè proprio veramente ci sta ci sta questo è il rever ah avete capito? io sì l'ho appena capito adesso e sicuramente voi l'avete già capito il vagone e ci sono al centro e qua ci sono le ruote motrici le ruote motrici il coso si però da stare muto da stare muto da stare muto ecco glielo ripeto da stare muto perché c'ha la motrice quindi può fare avanti e indietro questo alert oh i really needed that stretch sitting for a long time does not agree with me you did fantastically on the trains excellent job now we've got the hang of things we don't want to get bored do we? I think it's time to ramp up the traffic a bit and we can do that by accepting some contracts perhaps one from Device to Bubni and back just to keep things simple I'll let you know when we're ready but for now you should keep an eye on the timetable down right try to see when our current trains are arriving and departing that way you'll be better prepared to take on new contracts cioè dispatch route manually cioè non l'ho capito dispatch vabbè ah ok devo fare questa cosa questo qua dove va a dock tanti non arriveranno due a meno che non ci mette un semaforo cioè questo è one way holly quindi non ce ne frega poi adesso dobbiamo arrivare qua cioè la distanza è enorme tra i due però dove devi arrivare? a Bubni no no lo fermo vai parti e poi devi tornare al numero uno quindi dopo facciamo così tac reversal no ora è il momento perfetto e sembra che hai stato offerto un nuovo contratto non è una coincidenza 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 vabbè accetto vabbè accetto va ora che hai accettato ora che hai accettato è ora per il treno di test questa treno determinerà quanto veloce la tua route e quanto veloci dovresti pagare quindi fai conti ok mi fai reversare questo? ti sei messo a parlare ma non ho potuto reversarlo ecco fatto questo arriva dal 2 ok deve andare a Bubni ok vai e poi tornare e stai zitto ti giuro e l'unica cosa che odio è questo questo qua che parla poi il giochino mi sta piacendo ok fa troppo casino per sei per sei per sei per sei per sei Perchè si sento? Perchè si sento? Andiamo e apriamo il panel di upgrade system Continua all'infinito fino a quando... Andiamo e apriamo... E ho capito! Ci sono molti upgrade qui per l' futuro, ma per ora stiamo cercando l'upgrade auto-except-training. Ci sono 4 differenti... ora, scelta l'upgrade. Ecco l'upgrade. L'upgrade prendono 5 punti di upgrade per uscire. E' un'upgrade po' ogni volta che dispassi un'upgrade... E' un'upgrade per l'upgrade. E' un'upgrade per l'upgrade. E' un'upgrade per l'upgrade. E' un'upgrade per l'upgrade. E' un'upgrade per l'upgrade per l'upgrade. Se deve andare a bunny lui Ok Perché dici ritardo? Questo qui dove deve andare? A dox Su qui poi deve fare il reverse E deve tornare a Uno Ok 500 Meno 500 Non so cosa vuol dire Quel fatto di Ha cercato di dargli una narrativa Con questo tipo che parla Ha cercato di dargli una narrativa In my time Oh yes More than I can count Retired No I don't want to forget any of them So I've been making them into maps Little games to play And I've just finished recreating Wakefield Would you like to play it? It shouldn't take long It's only a short one I'd love to show it to you I've even included the old cathedral bells Would you like to try the timetable mod Nota che tu stai and lasciare Vediamo come funziona Vediamo come funziona Modalità tipo Metti tutti i treni Bene Dove va Wakefield 1 Quindi qua E poi West Westerhold 1 Va bene Quindi giusto Va bene Ah ma arriva da port No Da port miscio Panel 3 Quindi da qua Questo è già difficile E questo è già difficile Eh ma non me lo Ah quello qua No non me lo clicca Fino a quando questo è Non me lo clicca Ah adesso me lo clicca Westerfield 1 Va bene Questo qua Westerfield 2 Ok No Prima devo fare così Vai Ma questo può passare no? Si Poi questo qua Va in reverse mode E deve andare Potfield 1 2 Vai Ok Qua ce l'abbiamo Il binario 1 E deve andare al 3 3 Ok Sì di 3 Ok Poi facciamo così E così E questo qua West Harold Ok E questo qui Ah questo deve Rivertarsi pure Io non lo sapessi Ah questo deve fare sempre Lo stesso coso Questo è infinito? Non l'ho capito Questo qua Questo qua A posto in 2 Quindi questo qui Dobbiamo fare così Questo qui lo abbassiamo Questo qua lo rivertiamo Stai zitto un attimo Per favore Questo è andare all'1 Ok Tu dovevi fermarti No bomba Pensavo che si fermasse Sì questo qua È un po' Un po' Un casino Comunque Spero abbiate capito Molto di più Da questo gioco Spero che vi piaccia A me L'unica cosa che Mi ha dato un po' Fastidio Sapete che È un È una preview E quindi nelle preview Non lascio mai Un mio commento Né un feedback Ma lascio sempre voi Decidere se il gioco Vi piace oppure no Perché Potrebbe piacervi E non piacervi A voi E piacere E non piacere A me Ma Su questo Voglio lasciare un appunto Mi piace Il fattore che C'è una narrativa Mi piace il fattore Che c'è una persona Che parla sotto Che ti spiega Che il tutorial È spiegato da una voce Il problema Che Come si suol dire È il troppo stroppia Quindi Sviluppatore Per favore Riduci Il parlato Ovvero Tutorial Ma quando faccio Un errore Tipo Ah Ho sbagliato A mettere Il treno È in ritardo Sarebbe bello Che quella persona lì Stia zitta Cioè quella voce lì Una persona poraccio Quella voce lì Stia zitta Mi spunti un alert E non Continuamente Ah l'hai fatto Non l'hai fatto Ah l'hai fatto Non l'hai fatto Tutto qua Poi per il resto La musica mi piace Buona di accompagnamento Bravo È messa una voce Rilassantissima Una musica Rilassantissima E il gioco Si lascia giocare E poi diventa Un trick Allucinante Forse In futuro Nello skill tree Non ho controllato Ma avremo degli shortcut Per aprire E chiudere Gli switch Dei treni Invece del click E quindi Oppure automatizzare Oppure avere Cioè Assegnare A ogni switch Uno shortcut Della tastiera Sarebbe figo Non lo so Ma lascio a voi Decidere il tutto Se vi piace oppure no Come sempre Siete medici Ed alla prossima Bye bye Ciao